Un punto separa il Teramo dalla matematica promozione in serie D. La società biancorossa è già in fermento e sta chiamando a raccolta tutta la cittadinanza, tifosi e non, per riempire domenica il più possibile lo stadio Gaetano Bonolis con lo slogan Riempiamo il Bonolis domenica 21 aprile alle ore 15. Ci attende la partita più importante della stagione, quella che dovrà coronare gli sforzi e i sacrifici di un'intera annata sportiva condotta con merito dal città di Teramo come capolista dall'inizio del campionato. Per questo motivo, in occasione del prossimo incontro casalingo con il Capistrello, il città di Teramo 1913 apre alla cittadinanza con diverse iniziative finalizzate a creare la giusta atmosfera per tagliare tutti insieme il meritato traguardo stagionale. Il settore distinti sarà colorato di biancorosso grazie solo alla presenza degli alunni degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado e di tutte le scuole calcio del territorio invitate per l'occasione. La prevendita è già cominciata ieri ma con uno speciale tariffario promozionale valido fino alle 20 di giovedì. Nell'occasione già venduti quasi 500 biglietti nel primo giorno di prevendita. Questo è il tariffario. Poltronissime 25 euro, tribuna centrale e laterale euro 10, ridotto 8, curve euro 5, settore ospiti euro 10. Per le eventuali feste post-gara da parte della squadra e dei tifosi per celebrare la conquista della promozione in Serie D invece al momento è top secret. La scaramanzia prevale sempre fino a quando l'obiettivo non sarà raggiunto matematicamente. Dunque l'appuntamento è per domenica alle 15 tutti al Bonolis per supportare la squadra e festeggiare tutti insieme il ritorno dei Biancorossi in Serie D.